Aspettati dove viaggio perché devo mettermi a Facebook Stasera è una di quelle partite che avvicinano il pubblico alla palanuoto Molto bella, molto intensa Tra due squadre che volevano vincere Come spesso accade ormai tra di noi O finisce sul filo di lana oppure si pareggia come l'anno scorso Devo dire che forse oggi avrebbe meritato qualcosa in più Trieste Ma ai punti E non ha avuto la forza di darci il colpo del KO Noi siamo stati bravi a che riceve la fine Abbiamo sbagliato un po' di uomini in più Che potevano tenerci a galla prima Ma devo dire ci sta